Il perturbante è quella sorta di spaventoso che risale a quanto c'è noto da lungo tempo a ciò che c'è familiare Così Sigmund Freud descriveva das Unheimliche, ovvero il perturbante E oggi parliamo proprio di questo Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany E oggi, come avrete capito dalla intro, parliamo di perturbante Perché volevo fare un video proprio tema Halloween Però diciamo che non volevo suggerirvi cose banali o cose horror Anche perché io gli horror non li leggo, non mi piacciono, non me ne frega assolutamente niente Quindi ho pensato di raccontarvi alcuni libri che invece fanno parte di questa sfumatura Che ha a che fare con la paura e con lo spavento Ma in maniera molto più sottile, molto più diversa E quindi penso che chiunque di voi abbia già affrontato questo in filosofia o in letteratura Non si stupirà di quello che vi starò per suggerire Però per tutti gli altri seguitemi perché saranno dei consigli succosi Il termine unheimlich, ovvero perturbante, serve ad esprimere una leggera sfumatura della paura Quindi dell'ambito della paura E si riferisce a qualcosa che noi avvertiamo come familiare Quindi quando c'è qualcosa che ci, in questo caso, stranisce Perché avvertiamo qualcosa come familiare, come conosciuta Ma allo stesso tempo è strane a noi E che quindi ci provoca angoscia e disagio Perché non riusciamo a scendere entrambe le nature di questo fenomeno Quindi il conoscerlo ma anche il non conoscerlo Freud individua otto cause del perturbante Gli oggetti inanimati scambiati erroneamente per animati Quindi soprattutto bambole, giocattoli, pupazzi, oggetti animati, automi, robot O addirittura proprio delle parti anatomiche Quindi una mano, un piede, un pezzo di una testa Cioè potrebbero essere tanti In pratica quando quella cosa non vivente Sembra troppo simile a ciò che invece è vivente Un'altra invece causa che potrebbe scatenare questo fenomeno Invece sono tutti gli oggetti animati Che si comportano invece come se non fossero animati Quindi tutti quegli stati di sospensione Quindi la trance, la possessione Momenti di follia, i momenti non lucidi Gli attacchi epilettici Tutto ciò che noi non possiamo controllare Che in qualche modo momentaneamente Sospende la nostra azione volontaria e cosciente Che ci rende simili invece ad oggetti inanimati Che non hanno controllo sulle proprie azioni Altri invece sono delle privazioni sensoriali Come la cecità o la perdita degli occhi Come avviene in Hoffman nel Mago Sabbiolino Se avete avuto la sfortuna di leggerlo Un'altra grandissima causa dell'Onheimlish È il doppio, il doppelganger Quindi i gemelli, i sosia Queste persone che assomigliano troppo Uno specchio Tutto ciò che riflette il doppio Un'altra causa potrebbe essere Nelle coincidenze, nelle ripetizioni Quindi nei loop temporali O quando alcune questioni temporali Sono e risultano strane Esempio quando ci si imbatte più volte Nel corso di una storia Ad uno stesso fenomeno Ad uno stesso personaggio Quando ci sembra di aver già vissuto un momento E rimanere per un attimo straniati Una delle cause più terrificanti Del perturbante Ad esempio è L'essere sepolti vivi Quindi avere un'esperienza Molto vicina alla morte Che però non è morte allo stesso tempo Questa viene tra l'altro Individuata come una delle cause Più scatenanti del fenomeno Un'altra causa è ad esempio Il genio Quindi qualcuno Che controlla tutto dall'alto Che controlla tutto il piano Che si sta svolgendo Un genio che ovviamente Ha delle caratteristiche maligne E poi come ultima causa Del perturbante C'è quel confine Che viene annullato Tra realtà e immaginazione Quando ad esempio Non riusciamo più a distinguere Ciò che è reale Da ciò che è immaginazione Il sogno lucido Quando vediamo cose Che ad esempio Avevamo solo immaginato Ipotizzato Avevamo sognato E queste tematiche Sono state ovviamente Fonte inesauribile Per la scrittura Di un sacco di romanzi Che secondo me Risultano ancora più spaventosi Dello spaventoso E dell'horror Perché queste sensazioni Di disagio Creano dentro di noi Un qualcosa che È quasi peggio Perché ci destabilizzano Ci fanno sentire Come se non avessimo Controllo sulla nostra vita E su quello che possiamo fare Ma non tanto da agenti esterni Cioè anche da agenti esterne Ma soprattutto Perché non riusciamo più A essere padroni Della nostra coscienza E per questo io oggi Tutto questo pippone È per dirvi Che volevo parlarvi Di un po' di romanzi E non potevo non partire Dall'incubo di Hill House Di Shirley Jackson Perché Secondo me Non forse ai livelli Di We have always lived in the castle Abbiamo sempre vissuto nel castello Ma in questo caso Secondo me Andiamo a sfiorare A toccare con mano Qualcosa di forse Più potente E delirante Dove Il confine Tra sanità E follia Non esiste più E una frase Che probabilmente Riassume Tutto questo libro In generale L'opera della Jackson È che nessun organismo vivente Può mantenersi a lungo San Di mente In condizioni Di assoluta realtà Cosa che secondo me È fortissima Nella nostra società Una condizione Nella quale ci sentiamo Costretti Messi all'angolo E soprattutto messi di fronte A qualcosa Che non possiamo più controllare E nonostante Shirley Jackson Ci dica subito Che Hill House Che sana non era Si ergeva su delle colline Chiusa intorno al buio Si ergeva così Da 80 anni E avrebbe potuto Continuare Per altri 80 Qualcuno decide Lo stesso Di varcare Questa soglia E questo uomo È il professor Montague Che riunisce In questa casa Poi in maniera Bizzarra Eleanor Vance Che è la nostra Protagonista Che è una donna Che non si ricorda Di essere mai Stata felice Nella sua vita E che quindi Vive un momento Di grande Crisi personale Perché si rende conto Soprattutto di aver Vissuto in maniera Isolata Fino al momento In cui giunge Nella casa Il professor Montague È un antropologo Quindi Già potremmo Intuire Che quello Che sta Conducendo È un esperimento Insieme a Eleanor Nella casa Ci sono anche Theodora Che è praticamente Esattamente Il contrario Di quello Che è Eleanor È una persona Molto carismatica È vivace È solare È sicura di sé Non ha mai paura Di mettersi a nudo Anche con degli Estranei Potremmo dire E che quindi Non ha paura Neanche di raccontare Le proprie Debolezze E a chiudere Il cerchio C'è anche Luke Che è il legittimo Erede Della casa Adesso poggio Per lei Innanzitutto Questa sensazione Nuova L'essere voluta L'essere cercata E desiderata In una dimensione Che è ben distante Dal tutto Il suo trascorso E per Eleanor Entrare nella casa Rappresenterà anche La scoperta Di se stessa Il cercare Se stessa E quello che è Anche se questo Non sarà sicuramente Un viaggio facile E ci racconterà Molte cose Su di lei Questo volume Proprio come abbiamo Sempre vissuto Nel castello Ma secondo me In maniera Molto più potente Perché è molto più cupo Come romanzo Cioè We have always Lived in the castle È molto cupo Ma questo è Decisamente più cupo Però è quel cupo Non horror È quel cupo Che ti mette a disagio Tantissimo E in questo volume Noi abbracciamo La psicosi Abbracciamo proprio L'espressione massima Di follia E noi Entrando in Hill House Facendoci accompagnare Lungo quel sentiero Dalla Jackson Ci rendiamo conto Che ci sta portando Alla scoperta Di qualcosa di Molto terrificante Che troppo spesso Coincide anche Con la scoperta Della nostra identità E dei terribili svolti Che questo può avere E questo cresce anche Nello stile Perché la Jackson Sempre di più Accorcia Taglia i capitoli Li rende sempre Piaciuti e più brevi E sempre meno lucidi Perché è questo Che noi assistiamo All'interno Di questo libro Sistiamo proprio Una perdita Totale Di lucidità E forse Di noi stessi Perché quando Ci allontaniamo Da ciò che conosciamo Ma allo stesso tempo Scopriamo che probabilmente Anche quello Lo conosciamo O comunque Lo dovremmo conoscere Non per tutti Non per tutti rappresenta Un qualcosa di positivo E in questo volume Sicuramente la Jackson È capace di unire Il perturbante Questo grande tema Con il thriller psicologico E come questa forse Sia una grande metafora Di scelte E decisioni Molto drastiche Drammatiche Della nostra esistenza E come forse Neanche noi Le abbiamo ben chiare Neanche noi ci conosciamo Fin in fondo Perché se guardiamo Veramente a fondo Potremmo spaventarci Passiamo da Shirley Jackson A uno dei miei autori Davvero preferiti Ovvero Henry James E in questo caso Io vi parlo di Giro di vite Che è davvero Uno dei miei romanzi preferiti Non potevo non includerlo In questo video Visto che di perturbante Si tratta E cosa c'è di più perturbante Di Giro di vite Che è un romanzo Dove Entriamo Magari aspettandoci Determinate cose E subito capiamo Che se c'eravamo Fatti delle idee Ce ne dobbiamo subito Distanziare Innanzitutto noi Ci immergiamo nella storia Leggendo i diari Della protagonista E seguiamo La storia Di un'istitutrice Che è la nostra protagonista Miss Giddens Che risponde A un'offerta di lavoro Per un ruolo Proprio di istitutrice Un ricco uomo D'affari di Londra Infatti sta cercando Un'istitutrice Per i propri nipoti Miss Giddens Infatti Accetta L'offerta di lavoro Nonostante una condizione Che le viene imposta Dal suo datore di lavoro Ovvero Ovvero che lui non vuole essere contattato In nessun momento In nessuna maniera E per nessun motivo E' già qua E una volta giunta Nella dimora di Bly Che è la casa dove Lei si dovrà occupare Dei due nipoti Del datore di lavoro Di questo ricco uomo D'affari Miss Giddens Si affeziona molto Ai bambini Perché sono intelligenti Adorabili E molto affettuosi Con lei Tuttavia La quiete di Bly Viene turbata Da strani Fatti Che iniziano Ad accadere Ci sono a sinistra Apparizioni Suoni Inaspettati Rumori E Miss Giddens Scoprirà Che l'istitutrice Che l'aveva preceduta Ma anche il maggiordomo Sono morti In condizioni misteriose No spoiler Quindi non andrò avanti Questa è l'introduzione Proprio a tutto il romanzo Allora Harry James Io lo adoro Perché con questo stile Evocativo E molto trascinante Anche perché Ti porta proprio Dentro Bly Ti porta in questa dimora E un po' frettolosamente Come potrebbe aver fatto Un datore di lavoro Sì sì Non voglio parlare E ci butta dentro Chiude la porta Tu ti ritrovi A seguire la storia Di Miss Giddens E infatti è molto bravo Nel dire Ma nel non svelare Mai troppo Della propria Della propria storia Perché l'intenzione È quello di tenere Sempre Le corde molto tirate Però da un lato Ve lo giuro Non si è mai sicuri Cioè non siamo mai sicuri Come lettori Di volere davvero Sapere tutto Perché La sensazione è quella Che più scopriamo Più siamo nei guai Detto ciò L'ambiguità È forse la chiave Di lettura Di tutto questo romanzo Capire che La definizione Di alcune cose Prima di tutto Non ci serve Non ci porterà mai A niente Che anche chiedendola Anche cercandola Non l'avremo mai Infatti Henry James È bravissimo Nell'aprire Tantissime domande Ma non darti Nessuna risposta E infatti Durante il corso Del romanzo Tantissime questioni Hanno delle risposte aperte Sono davvero aperte Anche a tante interpretazioni E spesso Durante la lettura Ci si chiede Se questi fantasmi Che noi sentiamo Vediamo E dei quali leggiamo Ovviamente Siano cose reali Cose che sono effettivamente Attorno a noi O se siano solo Nella nostra testa Spoiler Non lo sapremo mai In più In questa raccolta Io non potevo Non parlarmi Di questo autore Perché mi rendo conto Che ne parlo troppo poco Comunque Anche se non è questo il libro Io vi faccio vedere questo Che in realtà È molto dopo mezzanotte Che è una serie di racconti Perché non trovo Il libro originale In ogni caso Anche questo Ve lo consiglio Ma non stiamo parlando Di questo oggi Volevo parlarvi Di Raid Bradbury E del Popolo dell'autunno Che è un titolo orribile Per sostituire invece Un titolo meraviglioso Con Something Wicked T.S. Wake Homes Che è veramente evocativo Già quando lo senti E già Te stai chiedendo Che cosa sta succedendo Comunque Il Popolo dell'autunno Chiamiamolo così Che tanto se lo reperite Ed ovviamente Giù vi metto tutti i link Così se volete cercarli Racconta la storia Di Will e Jim Che sono due ragazzi Che vivono nella provincia americana Precisamente a Greentown In Illinois Tra gli anni 40 E gli anni 50 Manca una settimana La festa di Halloween Che tra l'altro Per coincidenza È anche il compleanno Di entrambi E questa cittadina Di provincia Dovete pensare Alla provincia americana Molto tranquilla Dove tutto si svolge Sempre nelle stesse maniere Viene sconvolta Dall'arrivo Di un circo Misterioso Da un lato Sembra promettere A tutti gli abitanti Della città Di risolvere I loro problemi Realizzare i loro sogni E dall'altro Lascia invece Parecchi di loro Sconvolti Molto turbati E anche spaventati Quindi Che cosa succederà Ai nostri protagonisti E alla loro città Ovviamente non ve lo dico Perché se no È spoiler Detto ciò Secondo me Ray Bradbury È un genio È proprio bravissimo Perché lui sembra Aver messo Elettricità In queste pagine Perché noi ci sentiamo Continuamente in tensione Per tutta la lettura C'è una sensazione Di perenne Inquietudine Di perenne Qualcosa sta Per arrivare Qualcosa sta Per succedere Questa cosa Non mi torna Però in maniera Molto elegante Cioè non manifesta Sempre Ed è forse in questo Che il perturbante La sua massima rappresentazione E anche perché Noi assistiamo Continuamente A coincidenze Casualità Ripetizioni Una serie di avvenimenti Imprevedibili Ma sconvolgenti Che sono proprio Il light motive Di questo racconto Di questo romanzo Per me rimane Uno dei più riusciti Di Bradbury Perché riesce proprio A raggiungere L'obiettivo manifesto Fin dal titolo E lì sei Lì sei e rimani Ed è una realizzazione Secondo me Eccellente Infatti già il titolo Che secondo me In italiano Perde tantissimo Non so perché C'è stata sta follia Quando lo dovevano tradurre Però Something wicked This way comes Già ti dice Che qualcosa di malvagio Sta arrivando verso di te Quindi stai attento Anche se tu Non puoi prevedere Cosa sia Non ne hai La più pallida idea E cosa puoi fare L'unica cosa Che puoi fare È attaccarti Ai nostri protagonisti Proprio arrampati Arampicarti Sulle loro spalle E seguire il corso Degli avvenimenti E sperare Che vada tutto bene Anche se io Non ve lo garantisco Dopo pret Per il mio ultimissimo Suggerimento Per quanto riguarda Il tema del perturbante Non può che essere Igino Ugo Tarchetti Con la fosca E racconti fantastici Lasciate stare Questa copertina Orribile Costava 4,90 euro Io ho detto Un esame Su Tarchetti La vediamo così Che è un po' più carina Quanta roba C'è in mezzo Vabbè Tarchetti Che fa parte Della corrente Della scapigliatura Se non lo conoscete Che è una corrente Di tardo ottocento Che ha avuto Abbastanza fortuna Anche se si è esaurita Abbastanza In fretta In Italia Però è una corrente Molto interessante Perché riprende Tantissime tematiche Che sicuramente Devono tantissimo Edgar Allan Poe E alla cultura gotica E come Deva Poe Deva Hoffman E Deva tutti quelli Che hanno fatto parte In maniera preponderante Del perturbante In questo caso I racconti fantastici Sono 5 Nella mia edizione Più fosca Che è un racconto a parte Quindi stiamo parlando Di 6 Ma sono generalmente Racconti brevi Che hanno dei temi ricorrenti Pensazioni Percezioni Mondi sommersi Mondi un po' segreti Tanto mistero Uno stato mentale Ma non solo Anche fisico Morboso Grottesco Perenne angoscia Incubi Ansia Paranoia E che esploderà Poi con Quello che viene Poi definito Da Freud Ovvero Il perturbante Da Sunheim E in questo caso Forse solo come Pochi altri Forse come magari In Poe Eccetera eccetera Il perturbante Il termine perturbante Unito anche al fantastico Perché in questo caso Sono racconti fantastici Coincidono Con la perdita Dell'integrità E Il via via Allentarsi Della perdita Anche dell'identità Quindi quello che noi Sentiamo di esserci Abbiamo la certezza di essere Un po' come poi È stato ripreso Da Shirley Jackson Infatti forse Uno dei casi Dove proprio questo È evidente È nel racconto Di Uno spirito In un lampone Dove l'anima Di una fanciulla Morta Passa Al nostro barone Di B Che mangia Dei lapponi Cresciuti Sulla sua tomba E provoca Nel nostro protagonista Una sorta di Sdoppiamento Della personalità Che ovviamente Porta a questo Conflitto Tra l'identità Del barone Colui che ospita L'originale E l'ospite Questo spirito Che ha attaccato Il corpo E questo conflitto Con l'estraneo Con questa cosa Che non appartiene Proprio al nostro protagonista E tutti questi racconti Sono un po' legati Da una sorta Di stato Di allucinazione Nel quale noi Perdiamo La nostra coscienza Per come la conosciamo Perdiamo La lucidità Che noi abbiamo Nel definire La nostra identità Ed entriamo Continuamente In uno stato Conflittuale E confusionale Dove noi Trasformiamo Continuamente Vediamo Viviamo Questa metamorfosi Dove l'uno Diventa sempre Sdoppiato Diventa Un'identità Che non può essere Unica Ma diventa sempre Molteplice E tra l'altro Secondo me È molto Avanti Nei tempi Perché non solo Il nostro spirito Minaccia L'identità Dell'ospitante Ma lo minaccia Anche Come figura Femminile All'interno Di un corpo Maschile È una cosa Che si era vista Pochissime volte In pochissimi altri esempi Invece nel racconto Di Fosca Noi attendiamo A una figura Patologica E non dobbiamo Neanche indagare Troppo a fondo Per capirlo Come altrettanto È patologica La figura di Giorgio Che è la figura Che si contrappone A Fosca Che è ossessionato È un racconto Che ricorda Molto Berenice Di Po E in Giorgio Noi vediamo Il senso Di inquietudine Di ossessività Di ribrezzo Anche però Allo stesso tempo Cioè quei sistemi Conflittuali Che però Fanno parte Dell'animo umano Infatti Noi assistiamo A una confessione Che ci fa venire La pelle d'oca Ci fa venire Veramente i brividi Come Giorgio Non è mai stato Interessato all'amante Da viva Quando era viva E respirava Ma che ha iniziato Ma che ha iniziato Ad avere un'attenzione Morbosa Per lei Solo nel momento In cui è morta E infatti Fosca Cioè la protagonista Femminile Di questo racconto Non è più Un individuo Non è più Un'identità Ma diventa L'ossessione Che insegue L'uomo Continuamente Che lo porterà A entrare In questo sistema Ossessivo E a focalizzarsi Su qualcosa Che non c'è più Più su un'idea Che su una persona E su un'identità La potenza Di questo racconto Come in Berenice Di Po Sono molto simili Sta nel fatto Che spesso Questi demoni Ci abitano E hanno una sorta Di convivenza Con quella Che è la nostra psiche Ma che da un lato Nonostante noi abbiamo Gli strumenti Le possibilità Di scacciarli Non se ne vanno O non vogliamo Farli uscire È come se Questa cosa Facesse parte di noi Da un lato Ma dall'altro È come se questa cosa Ci attaccasse Ci colonizzasse Però fa parte di noi Quindi lo vediamo Come parte integrante Della nostra anima E non riusciamo Del tutto A scacciarlo E in tarchetti Perturbante Infatti Spesso Indaga sulla Definizione Di identità Sulla psiche E sul rapporto Che noi abbiamo Con un po' I nostri demoni interiori Ok Direi che oggi Consigli li ho finiti Nel senso Ne avrei tanti Però volevo fare Un video un po' breve Spero che comunque Vi risultino interessanti Anche perché oggi Esco un po' Dalla mia bolla Fantasy A young adult Ma arrivo Su un territorio Su cui non navigo Spesso Spero comunque Che vi risultino Dei consigli interessanti Anzi Fatemi sapere giù Nei commenti Cosa ne pensate Come solito Vi ricordo Che giù trovate I miei link Di affiliazione Amazon Dove vi ricito Tutti i testi Che vi ho appena Elencato E se volete Se volete contribuire Anche con un caffè C'è il link A coffee E ovviamente Non dimenticatevi Di iscrivervi Al canale E di attivare La campanellina Seguirmi Sui social Eccetera Eccetera Direi che per oggi È tutto Spero di avervi tenuto Compagnia In maniera un po' Più macabra E contemplativa Detto ciò Ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao